Buonasera Buonasera per non concludere ricominciamo da circa duemila anni fa da quando il Medioceano si chiamava ancora Mediterraneo e quindi partirei con una carta che ci ricorda che cos'era il Mediterraneo di Roma. Qui sono rappresentate le strade di Roma che ovviamente finivano tutte verso dei porti di sbocco e le principali rotte marittime di un circuito Mediterraneo. Questo possiamo definirlo il Mediterraneo ideale dal punto di vista di Roma, dell'Italia, della penisola perché era tutto costruito per parafrasare la pubblicità di una famosa banca attuale, tutto intorno a noi. Roma era il centro del centro del Mediterraneo, l'impero era affacciato su questo mare che poi solo in età tarda verrà definito Mare Nostrum. Tengo a sottolineare questo fatto, i romani di tempo di Augusto e delle dinastie Giugno Claudio e così via non parlavano di Mare Nostrum. C'era un impero non dichiarato, una repubblica di fatto imperiale e poi c'era il mare che era un bene comune secondo il diritto romano ma di fatto controllato e gestito da Roma, in particolare dalla Pax Augustea, quindi siamo all'inizio dell'età cristiana, ancora almeno per quattro o cinque secoli questa Pax Augustea, fatti fuori i vari pirati e vari concorrenti, garantiva il circuito Mediterraneo centrato su Roma, o meglio da un punto di vista diciamo della difesa, il porto di Ostia, cioè lo sbocco di Roma sul mare, porto di Ostia che però non poteva essere, infatti non è nemmeno oggi un porto commerciale semplicemente perché è alla foce del Tevere e quindi si insabbiava immediatamente come qualcuno qui forse spera che accada anche a Rotterdam. Il centrale punto di questo spazio era appunto il potere di Roma, è chiaro che oggi le cose sono un po' diverse, certamente diverse da come erano nell'età alta dell'impero romano, qui vedete come la divisione dell'impero romano era per province e non era come per esempio abbiamo visto nella carta sull'impero americano, la flotta, no? C'erano varie classes di cui sappiamo poco perché nella storiografia e soprattutto nell'epigrafia romana si parlava molto di legioni ma si parlava molto poco di flotta che significa fra le altre cose, un po' forse il caso delle fonti, ma fra le altre cose che la concentrazione di Roma era evidentemente sull'espansione dell'impero sul suo Limes e il mare era considerato una sorta di nastro trasportatore dei commerci, in particolare dei commerci da Alessandria a Roma, Alessandria d'Egitto ovviamente, l'Egitto era il granaio dell'impero, era una delle province, forse la provincia più ricca, infatti tenuta sotto il diretto controllo della capitale di Roma e questa idea di un mare che garantiva la pace, la sicurezza e il benessere di Roma era dominante. Questa bella storia che ci avvicina attuale medioceano è finita più o meno qui. Siamo al settimo secolo, allora una precisazione, noi normalmente siamo abituati a imparare che l'impero romano finisce nel 476, all'epoca nel 476, all'epoca della storiografia che quel sistema di cui ho trattato finora, il sistema romocentrico del Mediterraneo, è durato grosso modo fino al settimo secolo. insieme che gli storici chiamano Romania, l'accento sulla A, cioè lo spazio classico, linguistico e culturale romano, ecco quei popoli si facevano facilmente assimilare, poi diventavano essi stessi classe dirigente romana, quanti ne abbiamo avuti di imperatori non romani, quasi tutti in realtà e anche di stirpe germanica. Nel settimo secolo comincia un grande movimento di popoli che in realtà parte dall'Asia profonda, investe lo spazio persiano-sassanide e poi la penisola arabica dove un certo Maometto conquista la Mecca e apre una nuova stagione verso il Mediterraneo. C'è una famosa opera di un grande storico belga che si chiamava Oripiren che si chiama Maometto e Carlo Magno. Siamo nel 1937, questo Augusto studioso dell'Università di Liegi pubblica un libro che ha un successo fulmineo e che ancora oggi viene letto, utilizzato, criticato ma soprattutto utilizzato come libro di devozione da parte dei fautori dello scontro di civiltà. Cioè interpretando in maniera estremamente forzata la tesi che adesso vi dirò di Piren si sostiene che fondamentalmente l'Islam arabo a partire appunto dal settimo secolo da Maometto costruisce un impero che poi cerca di sfondare verso l'Europa, viene fermato a Poitiers 732 e a quel punto con il Papa che si sente minacciato dagli imperi dei califfi arabo-islamici e l'imperatore bizantino idem si crea una intesa fra papato e impero bizantino e a quel punto con Carlo Magno grande eroe della Unione Europea si forma quella che noi oggi chiamiamo l'Europa e noi scriviamo questa Europa senza accento proprio per definire la sua indefinitezza. Effettivamente questo movimento è esistito, esiste, in realtà quelli che vengono normalmente descritti come arabi e islamici almeno fino all'ottavo nono secolo, anche decimo, principalmente non erano né arabi né islamici, anche perché insomma sarebbe stato clamoroso che nel 630 Maometto conquista la Mecca e poi in pochi anni arrivano praticamente a Gibilterra. Sono spostamenti di popoli, popolazioni che oggi diremmo volgarmente berbere, nordafricane, bianchi, che si spostano anche attraverso questa spinta prima Sasanide, poi Arabica, verso il Mediterraneo occidentale, facendo anche un po' il giro delle isole e poi verso la penisola iberica. Il califato di Cordoba ci ricorda questo percorso incrociando con le popolazioni visigote e basta visitare Granada, basta visitare Cordoba per rendersi conto di quanto poco arabi e quanto molto visigoti fossero appunto gli arabo-islamici di cui ci si parla. Ma chiaramente fra la storiografia e la propaganda c'è un oiato incolmabile e noi siamo in qualche modo vittime di questa leggenda che poi si è tramandata nel tempo. Ma che cosa mi interessa dimostrare qui? Mi interessa dimostrare che si crea comunque a partire dal VII-VIII secolo una cesura che impedisce la riformazione di un circuito mediterraneo. Noi parliamo spesso della necessità per l'Italia e giustamente di poter godere di un mare mediterraneo libero, di un mare nostro nel senso disponibile per noi libero, nel quale si possa commerciare liberamente, tranquillamente perché altrimenti siamo finiti, beh quella condizione ideale non si è mai più riprodotta, salvo, forse questo gli storici lo ricorderanno con una certa enfasi, nel periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale e fino a quando, parliamo di adesso, la pressione americana su quest'area, quindi il controllo del Mediterraneo assoluto in funzione antisovietica è scemata per potersi riconcentrare invece sull'Indo Pacifico e quindi tutti i vari antagonismi fra piccole, grandi e comunque ambiziosi potenze affacciate sul Mediterraneo, per esempio la Turchia, sono tornate a premere sull'assetto marittimo, a creare una competizione, a creare, e qui accenno quello che dirò poi in conclusione, all'aspetto centrale della situazione attuale che è appunto questo incrocio fra l'elemento mediooceanico, cioè il Mediterraneo che non è più tanto e solo una partizione Nord-Sud, Europa-Africa e Asia, ma anche un corridoio Est-Ovest fra Indo-Pacifico e Atlantico e il fatto che questo spazio, proprio perché è diventato di nuovo contendibile, quindi conteso, mette noi, mette la penisola italiana in una condizione di grave instabilità, incertezza, insicurezza. Una potenza che cercò nell'Ottocento, Novecento, di dare un senso di nuovo a un circuito mediterraneo, guarda caso, guardando ancora una volta a Roma, è un po' la fissazione di tutti gli imperi, Roma, dobbiamo farci il callo, era la Francia. La Francia è una potenza continentale che però ha degli affacci marittimi e la Francia ha sempre guardato il Mediterraneo a partire dalla fine del Settecento e inizio Ottocento, salvo poi beccare un sacco di botte dai britannici ogni volta che si affacciavano troppo sul mare, come allo spazio di collegamento tra se stessa, l'esagono, insomma la Francia francese, per capirci, e quella che per i francesi resta comunque Francia imperiale, e quindi Francia, cioè la proiezione al di là del Mediterraneo via Algeria, dove i francesi arrivano nel 1830, poi colonizzano anche la Tunisia con una meravigliosa operazione di assimilazione dei siciliani di Tunisia che vengono muniti di documenti francesi, parlano un francese pessimo, però sostanzialmente affermano il potere francese sulla Tunisia e aprono una stagione di scontri su questo spazio che non è ancora finita, fra Italia e Francia, e poi la penetrazione nel cuore dell'Africa, dove la competizione fondamentalmente fra marina e fanteria francese, perché diciamo di soggetti degni di questo nome, lì ce n'erano pochi finché non incrociano gli inglesi, ma questo è un altro tipo di discorso. Questa carta è la ricostruzione di un momento successivo alla fase di espansione francese tra fine 800 e inizio 900, siamo nel 1945, e un signore che si chiamava Alexandre Hogev, di professione filosofo, figlio di una ricca famiglia moscovita che poi attraverso un percorso intellettuale molto composito giunge a diventare uno dei più influenti e importanti intellettuali di Francia, ma soprattutto, ed è il sogno di ogni intellettuale, si installa nel cuore del potere francese, nella tecnocrazia, nella grande burocrazia francese dello Stato, e lì i francesi e lo Stato lo scrivono con tre S maiuscole, e di fatto diventa l'ispiratore, almeno per un certo periodo, della geopolitica francese a livello più alto. In un documento scritto per il generale de Gaulle nel 1945, quindi quando la Francia, apparentemente vittoriosa, è traumatizzata dalla sconfitta del 1940, cioè dal fatto che i francesi praticamente si sono arresi senza combattere alle armate corazzate di Guderian e ai nazisti, ecco, l'interrogativo che Kojev si pone e pone al generale de Gaulle è, ma la Francia che cosa può diventare nell'età degli imperi? Perché lui diceva sono finite le nazioni, ricominciano gli imperi e la Francia è ridotta ai minimi termini e non può rimanere chiusa nell'esagono e nei suoi sparsi possedimenti oceanici. Dove deve restare barra tornare è l'Africa e come ci torni in Africa via Mediterraneo. E quindi riprendendo una vecchia idea mediterraneista, i francesi da allora in avanti, ancora Macron lo ha fatto, l'hanno fatto tutti i presidenti, cioè i re di Francia che si chiamano oggi i presidenti, il grado di autocrazia di un presidente della Repubblica Francese è insuperato e superabile, mi viene da ridere quando qualcuno definisce, non so, Erdogan, dittatore, Putin, sono tutti signori che non hanno che una parte del potere che ha il presidente della Repubblica Francese. Ma la Repubblica Francese, oltre ad avere un presidente, ha una lunga storia di mentalità e di cultura geopolitica che nasce ben prima della Repubblica, nasce quantomeno, direi grossomodo alla fine del Settecento e che si porta ancora dietro e guarda al Mediterraneo quindi come allo spazio di contatto tra la Francia e l'Africa. E come lo pensa questo spazio? Niente po' po' di meno che in termini latini, cioè romani. I francesi quando gli serve scoprono improvvisamente la latinité e gli serve molto spesso perché la latinité, quindi il mediterraneismo francese, è la costruzione ideologica applicata alla geopolitica che consente alla Francia di considerarsi una potenza euro-africana. Considerando anche che i francesi sono, a differenza dell'Italia, tutt'ora in espansione demografica e che hanno una lingua internazionale, culturale di grande livello e di cui sono molto fieri e che soprattutto curano come un'arma, un'arma di influenza culturale e quindi geopolitica, ecco che l'Africa diventa il bacino del futuro per la Francia. Quante volte mi è capitato, vi sarà capitato anche a voi, di parlare con dei francesi che vi spiegano con grande enfasi come fra poco, fra qualche decennio, il francese addirittura sarà la prima lingua del mondo perché si chioma, gli africani si riproducono come conigli e secondo loro parlano francese, andate nell'impero francese e vedrete come parlano francese, inevitabilmente la lingua francese, la francofonia e alla fine la Francia tornerà a dominare le cumene, ma restiamo al Mediterraneo. Questo è stato e rimane ancora dal punto di vista francese il tentativo di ricostruire una qualche forma di circuito romano dell'impero, latino per usare la terminologia di Kochev. E questo viene inevitabilmente contrastato anzitutto in campo europeo dalla Germania, che ogni volta che sente parlare di Mediterraneo, rivengono le bolle e naturalmente in misura più soft, perché non c'è bisogno di usare le maniere forti, anche dagli americani quando spiegano ai francesi che devono restare un momentino al loro posto e recentemente gliel'hanno spiegato in maniera molto brutale con la storia dei sottomarini che vedete. Poi leggevo oggi, in queste ore addirittura Macron, che deve essere in una fase un po' nervosa, ha disdetto una vista del presidente svizzero in Francia perché la Svizzera si compra gli F-35 invece che caccia francesi. Quindi insomma è un momento in cui i nostri amici transalpini soffrono un po', ma le idee grandiose, come sapete, non muoiono mai. Perché questa lunga premessa? Perché senza capire come la permanenza, soprattutto a livello culturale, della cesura del VII e VIII secolo e la paura innanzitutto della Francia, ma io penso presto anche di altri paesi europei, sicuramente anche della Germania, in Italia per fortuna ancora siamo un po' meglio, di essere di nuovo alle prese con qualche forma di virgolette invasione islamica, lascio a voi giudicare quanto di vero o meno vero ci sia, è un fattore ulteriore di riproduzione di uno schema di scontro di civiltà che impedisce che il Mediterraneo possa essere considerato quello che ogni tanto ci siamo raccontati, un po' credendoci, un po' non credendoci, cioè uno spazio di libera collaborazione, di pace e ci vogliamo tutti bene. Non è così, abbiamo visto come il Mediterraneo sia di nuovo uno spazio conteso e territorializzato e quindi vengo all'attualità. Ci diceva stamattina l'ammiraglio Cavodragone che ormai solamente il 20% dello spazio mediterraneo è più o meno fuori dalle varie zone economiche esclusive, pesca, ecologia e quant'altro, che hanno una forma giuridica ma che hanno un senso geopolitico molto forte e che segnalano la creazione all'interno di uno spazio marittimo, quindi liquido, quindi fluido di veri e propri confini che vengono considerati da difendere come se fossero delle frontiere terrestri. Noi italiani siamo l'unico paese affacciato sul Mediterraneo che ha sempre detto ma noi non vogliamo una zona economica esclusiva perché noi vogliamo un mare libero. Il problema è che mentre noi dicevamo noi vogliamo un mare libero gli altri lo occupavano e quindi noi ci troviamo adesso a immaginare, ripeto immaginare una nostra zona economica esclusiva, faccio l'esempio di questo per capire che tipo di territorializzazione si può fare, quando ormai i posti sono occupati, quando abbiamo un'Algeria che si affaccia nel Golfo di Oristano, fra l'altro con i suoi sommergibili di fabbricazione russa notevolmente più potenti dei nostri, per dire un attore non esattamente clamoroso e in cui nell'area si ricreano o si riformano vecchie rivalità, per esempio quella franco-turca ahimè da quello che si legge anche sulla stampa francese e per quello che si può su quella turca e ancora riprende spesso proprio la tesi piregnana dello scontro di civiltà. Quando Macron per esempio parla di separatismo dentro la Francia non intende che un pezzo di Francia si vuole separare dal resto, ma intende che la propaganda islamica che secondo i francesi è largamente curata e foraggiata dai turchi attraverso la rete dei fratelli musulmani intende non costruire degli spazi separati e autonomi all'interno della Francia, ma semplicemente prendersi la Francia, piano piano. E quindi tornano vecchi schemi e addio mare libero e mediterraneo dei sogni e questo ci porta a concludere sulla situazione attuale. Questa carta ormai ve l'abbiamo presentata fino alla noia, vorrei riprenderla perché mi permette di fare un paio di ragionamenti che non vogliono assolutamente essere conclusivi, ma vorrebbero essere un ulteriore spunto di riflessione e di indagine su un tema che è troppo importante evidentemente per poter esaurire. Che cosa noi possiamo fare insieme o non insieme con le altre potenze europee, considerando che per quanto gli americani qui diciamo dormano con un occhio solo, hanno un controllo di ultima istanza, in particolare grazie al potere aereo e satelliti, all'intelligence dei segnali e così via su tutto quello che accade nell'area e ogni volta che qualche potenza europea prova a fare delle spedizioni, mi riferisco per esempio anche a quella francese britannica in Libia, se non ci sono gli americani a un certo punto finisce la benzina, finiscono le munizioni e quindi si deve ritornare a quella casella di partenza. Ma posta questa premessa ci sono delle questioni che riguardano la nostra sicurezza che stanno venendo sempre più in evidenza. Una è quella che abbiamo definito della soglia dello stretto di Sicilia. Noi abbiamo guardato e anche cartografato questo stretto di Sicilia finora, fino a un paio d'anni fa, essenzialmente in una dimensione nord-sud, in una dimensione stabilità relativa, caos per nulla relativo al di sotto di questa soglia. E quindi abbiamo in qualche modo, non dico equiparato, ma assimilato questa faglia di Caoslandia, come l'abbiamo chiamata, con altre faglie che per esempio sono quella che lungo il Rio Grande separa gli Stati Uniti dal Messico, non a caso lì viene almeno parzialmente fortificata, a segnalare che insomma, ixunt leones, che non siamo semplicemente a un passaggio di frontiera, una dogana, non so, italo-svizzera o italo-austriaca, ma siamo veramente nella rappresentazione, soprattutto anche mediatica, di fronte a due mondi che non hanno moltissimo in comune. E qui dobbiamo fare evidentemente delle scelte, ne abbiamo parlato a lungo in queste due giornate, abbiamo parlato prima in termini generali, poi in termini specifici di aree del Mediterraneo, del Medioceano e poi siamo arrivati a parlare dell'Indo-Pacifico, vorrei semplicemente concentrarmi sulla questione libica e saheliana. Noi abbiamo improvvisamente scoperto quello che i nostri padri risorgimentali già sapevano e riprendevano in realtà da Roma, e cioè che il Mediterraneo comincia in realtà a Bab el-Mandeb, comincia all'incrocio tra la penisola arabica e il corno d'Africa, e come diceva il ministro, grande giurista Beneventano Pasquale Stanislao Mancini, le chiavi del Mediterraneo sono nel Mar Rosso. Io spero che si sbagliasse, perché se effettivamente le chiavi del Mediterraneo sono nel Mar Rosso siamo messi piuttosto male, perché lì, come è stato ben illustrato nel panel di ieri pomeriggio, sta succedendo veramente di tutto e di più, e non mi riferisco ovviamente semplicemente al caso del ribaltamento dell'Evergreen, ma mi riferisco alla crisi, vabbè, la Somalia, l'Etiopia che si sta somalizzando, l'Eritrea che non si capisce come va a finire, in Yemen, cioè nella guerra per Aden, cioè per il controllo del passaggio dall'Indo Pacifico al Mar Rosso, ci sono varie potenze che si fanno la guerra fra loro, il Sudan, dove stanno fra l'altro penetrando anche i russi, insomma è tutta un'area lasciando perdere il Levante classico in grave instabilità, ma lì francamente abbiamo poco da dire, dove invece noi abbiamo molto da dire, o almeno avremmo molto da dire, è in quell'area che vedete tratteggiata, area di primaria responsabilità marittima italiana, e dove si affaccia quest'area? Territorialmente si affaccia sulla Libia e sulla Tunisia. La Libia non esiste più, la Tunisia ancora esiste, ma c'è appena stato un colpo di Stato, a mio avviso con qualche diciamo aiutino esterno da parte francese e non solo, e quello che è oggi il paese da cui proviene la maggiore massa di migranti, molto più che dalla Libia, è un paese che si trova in una fase di grande instabilità. Bene, si dirà, e noi che facciamo? Ne abbiamo parlato in questi giorni. Facciamo che quando avremmo potuto, per esempio, riprendere un diritto di parola, quantomeno se non un controllo della Tripolitania, facciamo finta di non esistere, e quindi sostanzialmente noi oggi dalle Libie siamo totalmente esclusi, c'è rimasta Leni, ma giustamente Leni si fa gli affari suoi, e quindi in un'area immediatamente prospicente, lo stretto di Sicilia, noi siamo in qualche modo in balia degli eventi e delle potenze piuttosto potenti, come la Turchia e la Russia, che vi si sono insediate per restare. In Tunisia ho detto, bene, allora che cosa facciamo noi? Mandiamo dei soldati in Mali, vi prego di osservare la distanza che separa il Mediterraneo dal Mali, perché va bene, certo, fa parte della fascia saheliana da cui arrivano le pressioni migratorie, i traffici e quant'altro, ma che cosa succede in questi giorni in Mali? Succede che c'è stato un colpo di Stato che è arrivato al potere un gruppo di militari guidato da un signore che ha fatto le varie scuole che ha fatto soprattutto a Mosca e il quale ha detto benissimo, adesso qui voi francesi non siete capaci di reggere il Mali, io chiamo i russi che almeno quelli ci sanno fare. Sta arrivando la Wagner, un migliaio di soldati della Wagner, che ormai non si capisce, devono essere un esercito formidabile a giudicare, cioè la Wagner per chi non lo sa è un'organizzazione di, chiamiamoli, contractor mercenari fondamentalmente al servizio dei russi, tutte le maggiori potenze, anche quelle minori ormai si dotano di strumenti mercenari, noi siamo anche qui gli libati che non possono permettersi questo strumento quando lo usano tutti gli altri, è un altro elemento di svantaggio. E questo signore praticamente ha comunicato a tutti quanti, in particolare ai francesi, che è ora di tornare indietro e i francesi stanno organizzando la litirata. Noi arriviamo lì con 250 forze speciali, elicottero e quant'altro e finiamo dove? In una delle zone più guerreggiate di tutta l'Africa, in mezzo a gruppi armati più diversi, più o meno fanatizzati jihadisti che all'incrocio tra il Mali, il Niger, il Burkina Faso, dettano legge, i francesi se ne vanno, arrivano i russi, vorrei sapere che cosa noi facciamo con questi soldati. Invece, dopo non avere mandato invece soldati in Tripolitania, dovremmo forse concentrarci, quando parliamo di quest'area, su quello che a noi veramente interessa e che cosa ci interessa veramente il Niger e in particolare la città di Agadez che vedete segnata, che è il cuore centrale di tutte le rotte sia occidentali, centrali che orientali, che dal cuore dell'Africa puntano verso il Mediterraneo. Evidentemente il controllo di Agadez, il controllo, insomma, quantomeno la supervisione di Agadez è stata finora mantenuta soprattutto dai francesi, certamente con l'aiuto degli americani e i francesi hanno fatto di tutto per impedire che noi potessimo entrare ad Agadez, adesso stiamo cercando di installarci anche là. però questa è un'operazione che ha un senso, non ha molto senso invece continuare con queste operazioni antiterrorismo in giro per il mondo che ci fanno perdere di vista la realtà delle cose e ci fanno perdere di vista la necessità di controllare almeno quello spazio di Mediterraneo che immette verso la nostra penisola e dal quale dipende la sicurezza nostra ma poi in gran parte anche la sicurezza dei nostri cosiddetti partner europei. Per concludere, non ci sono ovviamente soluzioni magiche, al Mediterraneo di Roma non si può tornare, che ne pensino i francesi, non sappiamo fino a che punto, fino a in che modo questo relativo disinteresse americano per il Mediterraneo sia un fatto parziale, duraturo, una fase o invece un percorso di lungo periodo, in tutta questa incertezza forse è il caso di riprendere in mano qualche idea per la nostra sicurezza, per la nostra protezione delle linee, delle rotte marittime che riguardano anche Trieste. Abbiamo cercato di farlo nel numero della rivista che trovate, lo abbiamo ripetuto, approfondito in maniera anche molto specifica nel corso di queste due giornate, è un lavoro che continueremo e a questo punto io devo solo ringraziare voi innanzitutto che ci avete seguito in maniera quasi maniacale in tutta questa galoppata che quasi non ha lasciato spazio tra un panel e l'altro, quindi vi sono molto grato, vi ringrazio per l'incoraggiamento che ci avete dato, tra l'altro essere finalmente di nuovo in contatto fisico con voi è una bella esperienza, se posso aggiungere una parola specifica per i ragazzi e anche i non ragazzi della scuola di Limes che hanno avuto il coraggio di arrivare fino a qua e di seguirci e di incoraggiarci, questo credo che sia giusto e credo di poterlo fare a nome di tutta la redazione di Limes, un ringraziamento oltre che ai nostri sponsor speciale va agli organizzatori e agli amici del porto di Trieste, a Franca Prest che insieme a Ludovica Carrara ha permesso che questa nostra iniziativa potesse prendere effettivamente corpo, abbiamo fatto questa galoppata nel Medioceano qui a Trieste, continueremo ad occuparci di mare perché come abbiamo già detto mille volte e lo ripetiamo la geopolitica marittima oggi è assolutamente fondamentale e continueremo a farlo insieme a voi qui a Trieste e a partire da un aggiornamento continuo di quelle che sono le analisi sulla nostra situazione in un mare che non accetta più quelli che pensano di essere altrove ma accetta solo quelli che si costruiscono il diritto di parola e il diritto di commercio e di controllo della propria sicurezza in questo mare. è finito il tempo delle dichiarazioni deve cominciare il tempo delle azioni perché chi non agisce viene agito e questo non è simpatico. Vi ringrazio ancora e una buona serata a tutti. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.